Ercole Graziani il giovane è uno tra i migliori allievi di Donato Creti e nel rappresentare due grandi mistici dell'ordine francescano, cioè Santa Margherita da Cortona e San Pietro regalato ce li offre in contemplazione dell'immacolata Madre di Dio in gloria. Entrambi sono portatori nel loro corpo, io vorrei dire proprio nella loro fisicità, di un destino spirituale profondo che si intravede nei segni, nei simboli, nelle vesti stesse e nel modo di porsi in adorazione. E' curioso come l'eloquenza del 6 e in questo caso del 700, l'eloquenza che noi andiamo a definire genericamente barocca o del classicismo o neoclassicismo bolognese sia capace di essere a tutt'oggi così potentemente persuasiva. Niente di falso, niente di esagerato, niente di stucchevole in queste immagini di santi, ma vite incarnate, sospese tra cielo e terra in cui però l'aspetto terrestre, l'aspetto umano è coltivato nei minimi dettagli dal pennello di questo grande pittore bolognese, allievo di uno ancora più grande.